usare questa funzionalità è facilissimo dentro a qualsiasi tipo di prodotto di camba quindi presentazioni video chi più ne ha più ne metta dovete scendere nella barra che c'è qui a sinistra fino a trovare la voce app una volta che sarete all'interno della voce app troverete l'icona text to image cliccandoci sopra avrete poi una piccola visualizzazione di benvenuto diversa dalla mia che ho già aperto questa app quindi ne ho già usufruito cliccando ancora sul tasto viola per iniziare vi troverete esattamente qui all'interno della mia stessa schermata e scoprirete che poi questa app che avete usato piano piano la troverete sempre più in alto nella lista delle vostre voci qui nel menu che sapete vi ripropone le cose che usate più spesso quindi troverete in futuro la app text to image non per forza nascosta nel comando app ma già qui presente nella barra a sinistra in questa schermata come vedete c'è un motore di ricerca quindi io posso scrivere anche frasi molto articolate come per esempio cane in giardino davanti alla casa e poi posso scegliere lo stile dell'immagine che cerco per esempio io cerco una foto ci clicco sopra e poi vado su genera immagine in questo momento camba si sta prendendo il tempo di creare le nostre immagini personalizzate e come vedrete è una specie di intelligenza artificiale all'interno di camba che vi crea proprio il prodotto che stavate cercando interpretando e la vostra frase sapete che vanno molto di moda ultimamente anche i quadri creati da intelligenza artificiale quindi come vedete ecco qui ci sono diverse possibilità di scegliere diverse immagini oltre a questo posso anche giocarmela più di fantasia come vedete qui dagli suggerimenti di ispirazioni io potrei scrivere anche non so foresta fantastica notte con luna e chiedere anche di scegliere tra stili diversi non solo tra foto e disegno ma come vedete qui a destra ci sono tantissimi altri tipi di formati di immagine che potranno spuntarvi oppure potete lasciare decidere a canva quindi cliccare su stupiscimi e lasciare a lui la scelta del tipo di immagine da proporvi in questo momento quindi canva sta proprio creando la nostra immagine con le parole chiave che abbiamo messo all'interno e sono sicura che questo è uno strumento che tutti gli studenti ameranno alla follia per poter appunto creare i loro paesaggi personalizzati ecco qui diversi tipi di suggerimenti come vedete ci sono anche dei temi di sfondo per esempio questo oppure ci sono delle vere e proprie foto che io poi posso inserire e utilizzare dentro la mia immagine anche volendo come sfondo ecco come in questo caso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti